Ciao a tutti, io sono Frank Maugeri e vi do il benvenuto sul canale YouTube di Calisthenics Messina. Oggi vi farò vedere un circuito avanzato per l'addome da fare ovunque. Il circuito che andremo a fare sarà composto da 4 esercizi. I V-ups con una gamba, i leg flutters, la barchetta dinamica e i crunch. Tutti e quattro esercizi andranno eseguiti a terra mantenendola hollow position. Prima di andare a vedere tutto il circuito andiamo a vedere, facciamo una piccola parentesi su questa posizione. Quindi il circuito dovrà essere eseguito mantenendo sempre questa hollow position a terra, cioè la lombare, la parte lombare della schiena sempre a contatto con il pavimento. Andiamo a vedere come si esegue nell'esercizio più classico che è la barchetta completa. Per capire se state eseguendo bene l'esercizio non ci dovrà essere nessuno spazio in questa zona della schiena, mentre le spalle saranno alzate. Se riuscirete ad eseguire una barchetta completa mantenendo perfettamente la posizione per almeno 30 secondi, sarete pronti per eseguire questo circuito. Ogni esercizio andrà svolto dalle 10 alle 15 ripetizioni, con il miglior recupero possibile tra ogni esercizio. Iniziamo come abbiamo detto prima con i V-ups ad una gamba. Continuiamo il circuito. Con i Leg Raises sempre a terra, ricordatevi di mantenere la Hollow Position. Procediamo con il terzo esercizio, andiamo a eseguire la barchetta dinamica, quindi mantenendo la posizione della barchetta dove senti un tratto ed oscillo. Quarto e ultimo esercizio del circuito, andiamo a eseguire dei semplici crunch, sempre con la Lomba Rattata. Quarto e ultimo esercizio del circuito, esercizio completato, andate a eseguire dalle 3 alle 4 serie, con 1 fino a 2 minuti di recupero tra ogni serie, e come ho detto all'inizio, dalle 10 alle 15 ripetizioni per ogni esercizio. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, ricordatevi come sempre di commentare nei primi 30 minuti per partecipare all'estrazione di questa settimana, e ci vediamo mercoledì su Instagram per l'estrazione di questo video, e sabato prossimo con un nuovo video come sempre alle 15. La Caristhenics Messina è tutto.